Il progetto Un Passo in Più racchiude un duplice intento, camminare per stare meglio fisicamente e per apprendere nuove conoscenze. Gli itinerari scelti rendono stimolanti le camminate grazie all'accompagnamento di un volontario, esperto e appassionato di storia e cultura del nostro territorio, che approfondisce tematiche e apporta nozioni nuove sulla nostra città e i paesi limitrofi. Viviamo in un territorio bellissimo e camminando aggiungiamo un passo in più alla nostra consapevolezza di essere cittadini attivi.